Oh, è un sentiero piuttosto fangoso. Credo che a Quacco piaccia molto. Oh, little duck. Quacco è caduto sul fango e ora sta scivolando lungo il sentiero. Oh, no! Quacco! Quacco, quack! Quack, quack, quack! Dobbiamo raggiungerlo! Svelti, troviamo qualcosa che ci possa far navigare sul fiume. Tu vedi qualcosa con cui possiamo navigare? Una canoa! Ottimo lavoro! Quack, quack, quack! We're coming, Quacco! Dobbiamo raggiungerlo in fretta. Ci serve il tuo aiuto per remare. Allunga le mani di fronte a te e rema, rema, rema! Continua a remare. Rema, rema, rema! C'è un paperotto nei guai. Abbiamo un bel problema. Ci serve aiuto e quindi rema, rema, rema! Non ci fermeremo mai. Siamo vicini e quindi rema, rema! Wow! Queste rapide sono pericolose! Eccolo lì! Continua a remare. Rema, rema, rema! Rema, rema, rema! C'è un paperotto nei guai. Ci siamo quasi e quindi rema, rema! Lo abbiamo quasi raggiunto! Rema ancora più veloce! Rema, 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 rema! Quacco! I've got you, Quacco! My quack! Oh, my little duck! Quacco, quacco, quacco! Ti abbiamo tirato fuori dai guai. Si può far tutto se si rema. Rema, sì! È fantastico! Quack, quack! Siete qui! Quack, quack! Andiamo a chiedere alla guida se Quacco può restare con noi al campo. Kate, se Quacco scapperà di nuovo, la guida non gli consentirà di rimanere. Va bene, gli dirò di rimanere fermo qui. Quack, quack, quack! We're going to ask. Wait here, all right! Quack, quack! Allora, Quacco può restare? È un papero molto bravo! Gli ho detto di rimanere lì e lui è ancora dove... Kate? Wait, sì, guarda! Oh, oh! Se n'è andato! Ma aveva detto che sarebbe rimasto lì! Ci deve essere un motivo se si è mosso! Quack, quack, quack! Wait! Quacco! Dove stai andando? Oh, Quacco! Quack! Andiamo! Scopriamo cosa sta facendo Quacco! Quack, 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 quack! Quack, 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 quack! Quack, 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 quack! Kate, credo che Quacco veda qualcosa tra gli alberi. Tu vedi qualcosa tra gli alberi? Che cos'è? Un orso. Un orso! Look! Quacco sta facendo un sacco di rumore per spaventare l'orso! Quack, 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 quack Ora che l'ha trovato, tornano nella loro tanna nella montagna. Excellent, Quacco! Yes, è stato fantastico. È un papero intelligente. E anche coraggioso. Vuol dire che può rimanere. Se è un papero così coraggioso, certamente. Quacco sarà il nostro eroe onorario della settimana. Può restare al campo con noi? Did you hear that, Quacco? You can stay! Direi che Quacco ne ha felice. E per aver salvato Quacco ed essere state così coraggiose, avete guadagnato delle perline avventura. Grandioso! Yes, awesome! Wow, ho avuto la mia prima perlina! Look, Quacco, you too! Quack!